Per forza Italia comunque rappresenta un problema grande. Me ne occuperò domani sera alle 20, non è che posso rassararita a pensare a te, già ce ne occupiamo abbastanza. C'è un confronto, c'è una vigilanza che ha convocato un sacco di gente le prossime settimane, da Leonati alla Maggioni, dall'amministratore delegato e anche quelli che diriggono gli approfondimenti. Perché vedere il bagliardo che semina bugie sul servizio pubblico, poi viene mandato in onda e poi dicono ha detto tutte bugie. Ma se uno sa che sono 10 minuti di bugie, perché le mandano? Ne faccio un esempio, quindi ci occuperemo anche di telebagliardo. Poi c'è un patetico corteo, accompagneranno Ranucci e io quindi gli comprerò una carota perché se c'ha paura, che c'ha la sindrome del coniglio, si fa accompagnare ho letto sui soci, mica mangiamo nessuno, parliamo come parliamo con tutti, però anzi dobbiamo comprare un po' di carote per darne a, o non so, un po' di cordiale per dargli il coraglio, comprerò carote e cordiale e le offrirò a Ranucci, poi lo sceglierà, non mangiamo nessuno. Grazie mille.